Buongiorno a tutti, allora oggi faccio un video un po' particolare, perché non è esattamente uno slime fatto in casa da me, ma una ragazza, Luca Comics, mi ha dato questo regalo un po' particolare. Allora, mi ha dato questo boccetto con della colla, questa boccettina che non so se è acqua e borace o la soluzione per le lenti o qualcosa del genere, e questo che una volta era schiuma. Adesso diciamo che mi metto a scuotterlo, facciamo così, anche se perde un po', uffa, e era una specie di schiuma comunque, con le istruzioni appunto di mischiare colla e schiuma, e dopo mischiare con anche questa acqua, e insomma doveva uscire uno slime, mi ha dato proprio gli ingredienti per fare lo slime, mi sembra un'idea molto molto carina, dai, sembra quasi di nuovo schiuma questo, e mi sono sporcata anche l'anima. E quindi niente, adesso voglio provare subito, allora, come colla e come acqua, diciamo, chiamiamola acqua, bisogna metterne quantità un po' a caso, ma adesso devo un attimo vedere se riesco a aprire questa confezione un po' strana, perché era una confezione dei coton fioc, penso, sì, bastoncini cotonati i coton fioc. Ok, allora, questa mi sembra proprio colla vinilica, anche dall'odore, sì, è proprio colla vinilica, quindi non sono mai riuscita io a fare uno slime con la colla vinilica, vediamo un pochino. Io ne metto un po' a caso. Ok, fermati, fermati, basta, 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 basta. In caso, poi ce l'aggiungerò nell'altra. Ora, vediamo di aggiungere questa. Che è una scatola che perde abbastanza, purtroppo. Ah, non ci riesco, non si apre, non si apre, non ce l'ho fatta. Non so cosa sia, sinceramente, questa schiumina. Ok. Si appiccica tutta la colla, essendo colla, effettivamente, può avere senso. Ok. Adesso, intanto vado a mescolare con questo, qualunque cosa sia, non lo so, purtroppo. Slime con ingredienti segreti. E come dicono in coffee panda, non esiste l'ingrediente segreto. No, invece sì, qui esiste come, però, vabbè, questi sono dettagli, sono sporche. Queste confezioni erano tutte sporche, aiuto. Ora mi metto a mescolarlo con forza, perché, visto che quella doveva essere schiuma, dovevo avere le bolle. Quindi vai! Allora, io provo ad aggiungerci, a caso, il colorante per resina. Sì, è verde, non è un granché, però, non ne ho molti di questi coloranti qui. Insomma, non riesco ad aprirlo, oggi non riesco ad aprire niente. Vediamo se con questo si colora. Uno slime verde, così sembrerà flubber. Sempre se funziona. Non so se poi vi viene davvero sta cosa. Wow, si è colorato molto, praticamente bianco come prima. Dai, su, 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 su. Ne sto aggiungendo così tanto che è probabile che alla fine non verrà perché c'è troppo colorante. Il problema è che non si colora assolutamente, sto colorante è tarocco. No, dai, la resina la colora bene, però, a quanto pare, va bene solo per quella. Oh, almeno ora è abbastanza verdino. Un verde pastello, però bisogna accontentarsi nella vita, no? Bene, ora devo andare a raggiungere un po' di questa acqua, che non so se abbia dentro il borace o cosa. Guardate, si è sporcata di colla, persino questa. Insomma, vado a metterne poca poca alla volta, così evitiamo di fare danni. Ok, vedo che sta facendo un minimo di reazione. Ne ho messa proprio pochissima, ne ho messa giusto qualche goccia. Però, almeno, sta già funzionando. Bene, questa bottiglietta con l'acqua, con forse borace, mi sarà molto comoda. E io sto sporcando tutto, ma, va bene, non lo voglio di alzarmi per prendere qualcosa per pulirlo. Oddio, ci sono cose nella bottiglia. È molto inquietante. Comunque, vabbè. Ok, non riesco a capire se sta funzionando o no. Quindi adesso continuo ad aggiungerne finché non funziona, o finché vedo che non funziona, quindi lo butterò via. Cioè, è una cosa un po' strana, perché mentre mescolo si raggruma, come vedete. Poi appena lo lascio... Quindi questa cosa mi inquieta molto. Guardate, guardate, così diventa uno slime. E poi lo lascio e fa così. E come faccio a prenderlo in mano e giocarci? Impossibile. No, è proprio impossibile. Cioè, vedete? Così sembra proprio pronto. Però poi se lo tocco... Ok, non capisco come mai aiuto. Ok, penso che stia un po' migliorando. Almeno adesso non è più della consistenza solo della colla, più o meno. E niente, io continuo, continuo finché non ce la faccio. L'ho detto già dieci volte, lo so. Allora, vediamo un po' cosa riesco a combinare con le mani. Perché qua non si riesce più a mescolare, perché l'ho aggiunto un sacco. Però guardate come molliccio. Quando si schiaccia sembra solido. Facciamo così. Ecco, quando si schiaccia sembra abbastanza solido. E poi quando lo lascio un po', ploff. Ricordo un po' il liquido non newtoniano, che quando si schiaccia appunto è solido e poi ritorna liquido. Ma è bellissimo comunque. Guardate. E non si appiccica più, quasi. No, sì dai, non si appiccica più, quindi è bellissimo. Grazie, non mi ricordo come si chiama la ragazza, scusa, non me lo ricordo. Comunque grazie mille questa cosa, è bellissima. E soprattutto, ma qua dentro che cosa c'è? Quindi il borace, non lo so. Non ne ho idea. Però è morbidissimo. Cioè gli altri di solito diventavano molto più plasticosi. Questo qui invece è veramente morbidissimo, super elastico. E non si appiccica più, quindi è fantastico, perfetto. Oh mio Dio, che bello. Guardate che bello. Comunque, se io usassi, quando ho provato ad usare la vinilica con il Dixan non ha funzionato. Quindi, sì appunto, deve essere boraceo, deve essere la soluzione per le lenti. Devo trovare la soluzione per le lenti, quella che, con l'ingrediente che va bene. Che penso che comunque sia tipo l'acido borico o qualcosa del genere. È bellissimo ragazzi, potrei stare qui per ore, 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 ore. No vabbè, sono troppo soddisfatta veramente, non pensavo. Doveva venire più schiumoso, penso. Però quello nella scatorina piccolina, quello tutto schiumoso, si era ormai smontato, ecco. E però no, troppo, troppo, troppo morbido, vi giuro. Facciamo, vabbè, io avendo le unghie lunghe non riesco bene a fare quella prova tipo del fluffy slime. Però se, oh, sembra quasi fluffy slime. Ci rimangono le unghiate, non le ditate, però vabbè, questi sono dettagli. È bellissimo. Mi piace un sacco. Uh, quella taglia un ballo! È bellissimo. Grazie a tutti.